Ciao a tutti, perché un uomo sposato tradisce la moglie? Beh, ci sono tantissimi motivi, tantissime ragioni, proviamo a cercare di capire. Allora, intanto bisogna dividere in due macro-categorie, un tradimento con coinvolgimento emotivo, anzi, diciamo in tre macro-categorie, tradimento con coinvolgimento emotivo e logico, ovviamente il tradimento presuppone un coinvolgimento fisico, quindi se c'è anche però un coinvolgimento emotivo e logico, è molto probabile che poi ti lasci, perché vuol dire che l'altra donna, diciamo, gli produce emozione, quindi ha agganciato la sua parte emotiva, che si traduce, si è innamorato, e in più c'è anche un coinvolgimento logico, cioè vede la possibilità di, la vede come la donna della sua vita fondamentalmente, la vede come la donna con la quale passare il suo tempo, dedicarle il suo futuro, e quindi al 90% ti lascia, lo dico è che hanno preso degli impegni assieme, cioè che c'è un coinvolgimento anche razionale, logico, che anche su un piano logico e razionale, vede lei meglio di te. E quindi questo tipo di tradimento si esaurisce sempre col fatto che ti lascia. È sicuro, va da lei, e anche abbastanza rapidamente, entro sicuramente sei mesi. Il secondo tipo di tradimento invece avviene senza un coinvolgimento logico e razionale, ma con un coinvolgimento emotivo e fisico. E quindi in questo caso è innamorato, scopa bene con lei, meglio che con te, ma diciamo che non ha motivazioni logico e razionali, perché, che ne so, con te ha più impegni, o comunque non la vede come una donna con la quale trascorre il suo futuro. Per cui ci sarà, e questa è la situazione in cui ci sono delle tensioni molto alte, perché la sua parte emotiva cercherà di trascinarlo, a lasciarti, ma la sua parte logica tenderà a frenare. Quindi lui vivrà questo come una grossa tensione. E in questo caso lo sgami subito. Cioè nel primo caso lo sgami di meno, paradossalmente perché non ha tensione, perché ha parte emotiva e parte logica allineate. In questo caso ha le due parti separate, per cui lui vedrà, vivrà tutto questo come un dramma, come una situazione, e può evolversi da una parte o dall'altra. Se l'altro è brava a dargli delle motivazioni logico e razionali per stare con lei, è probabile che poi stia con lei. Se non è brava a dargliele, invece è probabile che poi alla fine resti con te con sofferenza. Però poi vengono fuori. Sono le situazioni dove le tensioni sono molto, molto, molto più alte. E poi c'è il terzo, la terza tipologia di tradimento, che invece è quella, diciamo, basata soltanto su un aspetto fisico, che può essere soltanto un istinto, che è l'istinto del maschio di fecondare più donne. Allora può essere il flirt, l'avventura, anche la prostituta, la escort, la professionista, insomma, un qualcosa che gli dà poca tensione, insomma, solamente uno sfogo. Oppure un amante che magari rivede una volta ogni tanto, una volta così, giusto per sfogarsi sessualmente, ma di cui non gli frega assolutamente nulla, fondamentalmente. Ecco, queste sono le tre tipologie, le tre motivazioni, che possono sottendere al tradimento maschile, al tradimento dell'uomo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!